Sul dissesto al comune di Chieti ci va giù pesante il Partito Democratico che attraverso il senatore Michele Fina, il capogruppo del PD Silvio Paolucci, ha annunciato la presentazione di un esposto alla procura della Corte dei Conti attribuendo le responsabilità al governo di centrodestra targato di primio del dissesto che per loro ha fossato in dieci anni la città. Tutto questo nel giorno in cui il sindaco Ferrara ha annunciato che mancherà per un po' dal comune per motivi di salute. La Corte in sostanza non ha omologato il piano di riequilibrio pluriannale del comune a fronte di un disavanzo di 78 milioni di euro. Non lo diciamo noi, lo scrive la Corte dei Conti nelle ampie motivazioni, ben 115 pagine a margine della valutazione del piano di riequilibrio presentata dall'amministrazione Ferrara. È molto chiaro, tutto comincia, tutto purtroppo si approfondisce quanto a entità del disavanzo con il governo di Di Primio. Dieci anni di disastri che hanno spinto la città nel baratro. Era giusto provarci ma l'impossibilità della situazione di partenza è stata scritta davvero in modo molto chiaro dalla Corte dei Conti. Oggi è il tempo di denunciare con chiarezza quanto avvenuto, di chi sono le responsabilità e portare il tutto davanti alla procura della Corte dei Conti perché la destra a Chieti non ha nessun titolo per parlare e per potersi anche ricandidare. Si dovrebbero solo vergognare di quello che hanno lasciato in eredità. Tra l'altro senza alcuna trasparenza non dando neanche le minime informazioni anche all'amministrazione che seguiva. Cioè chi è entrato non sapeva della reale situazione che già condannava la città. Un disavanzo dovuto a cosa? Voi avete detto che non ci sono state delle opere. No, mancate riscossioni, enormi residui attivi, un ricorso continuo per anni alle anticipazioni di tesoreria senza nessun'opera evidente, senza un investimento sulla città. Anzi sotto l'amministrazione di Primio sono stati persi ben il 60% dei dipendenti del Comune. Davvero un disastro su tutta la linea.